Mentre Grillo dal blog attacca i dem sulle consultazioni appena concluse, meglio il voto online che le primarie a pagamento dice, in Parlamento la pattuglia 5 Stelle è a lavoro sui temi più stringenti a partire dalla legge elettorale. Al voto subito esortano i grillini, pronti a trattare sul legalicum, dice Di Maio, che sottolinea questa è la nostra posizione ufficiale. Adesso che il Partito Democratico ha un segretario, quel segretario ci dica, vuole lavorare ad una legge elettorale come base di partenza il legalicum, ma con correttivi di governabilità, per assicurare dopo le prossime elezioni un governo a questo Paese che possa realizzare veramente un programma. Fin qui dunque ventilata la possibilità di un accordo e le volontà di cercare un'intesa saranno alla prova già da domani, quando ripartiranno i lavori in commissione. Al di là dei vostri desiderata, quali sono i terreni su cui si può trovare un compromesso? Per esempio i capilista bloccati sono un altro nodo da sciogliere, qual è la vostra posizione? Guardi, discutiamone in commissione, noi abbiamo detto, sinceramente siamo disponibili a modificare il legalicum perché non è inscalfibile. È chiaro che però la base è quella di partenza, anche perché non possiamo più pensare di fare grandi coalizioni con grandi ammucchiate. Quindi premio alla lista, discutiamo anche sugli altri punti. Mi auguro che il PD non voglia chiudersi nelle stanze segrete e flertare con i 5 Stelle perché sarebbe dannoso per l'Italia e per il suo futuro l'avvertimento di Schifani di Forza Italia. La convinzione nel partito è che si dovrà trattare, ora che Renzi è confermato segretario, con l'obiettivo di non arrivare a soluzioni ultramaggioritarie. Ad invocare il voto subito anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni che torna a chiedere primarie per il centrodestra.